Oggi iniziamo parlando di un argomento che a voi interessa tantissimo perché parleremo di grasso addominale, insomma quella ciccia intorno alla pancia che proprio non ne vuole sapere di andare via. Beh, non è soltanto una questione estetica, è una questione che potrebbe mettere a rischio anche la vostra salute. Però niente paura, qui con noi c'è il professor Pierluigi Rossi, bentornato caro professore. Buona giornata e con tanta salute a tutti. Esatto, perché riusciremo, grazie ai consigli del professore, a togliere questo grasso addominale. Allora, dato che sono in tanti che ci hanno chiesto come fare a toglierlo, io inizierei proprio da una domanda che ci fa Franco, ci scrive da Ancona e ci chiede ho 60 anni e da ragazzo non ho mai avuto la pancia, andando avanti con gli anni però è arrivata e non riesco a mandarla via. Perché? Questa è una delle tante che abbiamo ricevuto, professore. Perché non va via la pancia? Vede, dottoressa, ciascuno ha il suo grasso, perché ciascuno ha il suo metabolismo, il suo DNA. Al nostro amico di Ancona dobbiamo ricordare che man mano che si va avanti con la vita i centimetri nell'addome aumentano. Ma per poter programmare un sano dimagrimento occorre proprio eliminare il grasso viscerale, cioè il grasso che è all'interno della nostra cavità addominale. Man mano che si va avanti con la vita i centimetri dell'addome aumentano. Esatto. Ma non è soltanto una questione estetica, è una questione di salute. E dobbiamo far capire il ruolo fondamentale e pericoloso, perché il grasso dell'addome è il grasso più pericoloso. Voi donne accumulate grasso in zona gluteo-femorale, ma è un grasso sottocutaneo superficiale, che è protettivo addirittura, perché la natura ha sempre protetto la donna, perché deve andare verso la gravedanza e verso l'allattamento. Voi accumulate grasso solo dopo la menopausa. Noi uomini accumuliamo grasso sempre, in tutta la nostra esistenza, nell'addome. Però, come vediamo in questa slide, guardiamo a livello dell'addome, sotto la cute, c'è subito il grasso sottocutaneo, poi c'è la parte muscolare e poi c'è quella parte rossa, che è il grasso viscerale, a diretto contatto con le ansie intestinali. Questo è più pericoloso, perché è più infiammatorio. A cosa ci può portare questo grasso addominale? Insomma, io ho detto appunto, non è soltanto una questione estetica. No. E cosa ci può portare questo grasso in più? Il grasso addominale e viscerale ci porta ad un aumento di uno stato infiammatorio cronico, che può essere misurato anche attraverso la ricerca nel sangue della proteina C reattiva. Quando la proteina C reattiva è molto alta, significa che noi abbiamo uno stato infiammatorio. Il processo di invecchiamento deriva proprio dal processo infiammatorio cronico, cioè questo grasso ci fa invecchiare. Il grasso addominale e viscerale è il driver della salute e della longevità. Più grasso abbiamo e più ci si ammalà. Poi si può andare incontro all'insulino resistenza, che può essere individuato nel rapporto tra la glicemia, l'insulina e l'indicioma, che se non corretta l'insulino resistenza porta al diabete millitri di tipo 2. Una persona su 10 in Italia è affetta da diabete millitri di tipo 2. È una vera e propria epidemia metabolica. Si pensa e si guarda alla pandemia virale, ma qui noi siamo in presenza di una pandemia metabolica, l'obesità e il diabete. E poi c'è il fegato grasso, la stiatosi, la pressione alta e poi c'è il decadimento cognitivo e cerebrale, perché il grasso viscerale produce delle citochine che attraverso il sangue arrivano al cervello e creano uno stato di neuroinfiammazione cerebrale. Bisogna uscire dal gossip dietetico, estetico e entrare nella scienza. Esatto, perché oltre all'estetica c'è anche un fattore di salute che non è indispensabile. Dobbiamo pensare alla salute e a stare bene. Lei prima ha detto che noi donne dopo la menopausa, ovviamente, abbiamo questo disturbo. Infatti ci scrive Anna Maria, ci scrive da Cosenza e ci dice da quando sono in menopausa è arrivata anche la pancia. Che cosa devo fare? Che cosa deve fare la nostra Anna Maria, professore? Le donne che vanno in menopausa non hanno estrogeni. Gli estrogeni aiutano a collocare, perché la distribuzione della massa grassa nel corpo umano e differenze nell'uomo e nella donna, ed è sotto il governo degli ormoni. Il testosterone fa accumulare grasso nell'addome, mentre gli estrogeni fa accumulare grasso nel gluteo femorale. Nel momento in cui gli estrogeni non ci sono più, il grasso cambia la sua distribuzione topografica e va a livello addominale. Le donne di una certa età devono stare molto attente. Sì, infatti è allarme rosso, perché io ho 47 anni di attività professionale, mi sto accorgendo che le malattie cardiocircolatorie, vascolari, anche gravi nella donna in menopausa, sono in costante aumento, perché la donna accumula grasso. Quando la pancia non è più piatta e comincia a espandersi, vuol dire che cambia tutto l'assetto, il profilo ormonale e anche metabolico. Quindi la donna che accumula grasso non è un fatto estetico, ma deve essere decisa nella riduzione. Quindi i centimetri sono importanti. Importanti e a maggior ragione è importante la diagnosi. Perché come faccio a capire, professore, che sto accumulando grasso proprio sulla pancia? Non è soltanto, non è basta pesarmi sulla bilancia. Lì io vedo un metro da sarta. Questo ci può essere utile, professore? Il metro, dottoressa, è molto più utile della bilancia. Noi dobbiamo liberare le persone dalla scavitù della bilancia e recuperare il metro. Quindi prendete il metro alla circonferenza dell'addome, in particolare ponete il metro all'altezza dell'ombelico e la donna non deve mai superare gli 84 centimetri, mentre l'uomo non deve superare i 92 centimetri. Quindi quando i centimetri cominciano a salire o le fermiamo subito o vanno costantemente avanti, perché tutto il grasso si localizza a livello addominale e si localizza a livello viscerale. C'è anche una formuletta per capire esattamente se noi siamo in forma oppure se stiamo accumulando tanto grasso sulla pancia. È vero, professore? È semplicissima da fare. Ci sono anche dei valori di riferimento a cui dobbiamo fare attenzione. Quali sono, professore? Prendete il metro e misurate la vostra circonferenza addominale ponendo il metro all'altezza dell'ombelico. E questa è la circonferenza addominale. Poi prendete la vostra altezza e dividete la circonferenza addominale, la circonferenza vita, diviso l'altezza in centimetri e deve venire un numero. Allora, come vedete in questa slide, la donna non deve superare 0,49. Il rapporto tra la circonferenza della vita e l'altezza non deve andare oltre 0,49 e l'uomo oltre 0,53. Ora, le devo dire, dottoressa, che con l'andare della vita noi abbiamo un aumento della circonferenza addominale per aumento del grasso sottocotaneo addominale e viscerale. Però man mano che si va avanti con la vita si riduce l'altezza e la velocità con cui si riduce l'altezza è un indicatore di salute metabolica. Quindi aumentiamo la volumetria e riduciamo l'altezza. O blocchiamo questo processo oppure diventiamo un palloncino. E altrimenti andremo incontro a una degenerazione funzionale e cognitiva anche a livello cerebrale. Esatto. Un altro valore a cui dobbiamo fare attenzione, professore, sono i trigliceridi. Allora, per misurarli, professore, non c'è solamente la classica analisi del sangue. Come lo possiamo misurare? E in che modo anche? Vedi, ogni volta che noi mangiamo il nostro sangue cambia la sua composizione in rapporto agli alimenti che abbiamo mangiato. I parametri che cambiano soprattutto dopo mangiato sono la glicemia, che è la concentrazione del glucosio, l'insulina, ma soprattutto cambia la lipemia. Molte persone hanno, tra la colazione e il pranzo, hanno 15-16 ore con una lipemia alta, cioè i trigliceridi aumentano notevolmente dopo mangiato. Allora, noi possiamo individuare dopo tre ore, perché la glicemia aumenta subito dopo mangiato, ma i trigliceridi aumentano dopo tre ore dall'inizio del pasto, attraverso degli strumenti semplici con i quali si può misurare il glucosio, ma si possono misurare anche i trigliceridi. Il glucometro sarebbe, insomma. È uno strumento simile, però è uguale. Si cambia la striccetta, che è questa, si cambia e si mette la striccetta adatta per i trigliceridi. Quindi io mangio alle 13. Alle 16, dopo tre ore, io vado a controllare i trigliceridi che abbiamo nel sangue. Se i trigliceridi sono sopra 150, vuol dire che tutto il sistema lipidico è disfunzionale. Esatto. Ora, siccome andiamo a fare la ricerca delle analisi la mattina a digiuno, dopo 10 ore di digiuno, noi spesso troveremo i trigliceridi al di sotto di 150 mg per 100 ml. E dice, siamo tranquilli. Non è così. Durante la giornata mangiamo e quindi i trigliceridi aumentano notevolmente. Bisogna conoscere. Più alti sono i trigliceridi, e più alta è la lipemia e più si accumula grasso. Per cui, oltre al glucometro, ci sono anche questi strumenti in grado di misurare i trigliceridi. Per cui, insomma, facciamo questa prova perché sono importanti. Parliamo allora, diamo dei consigli pratici, professore. Parliamo di grassi. Io qui, accanto a me, ho dei formaggi meravigliosi. Quanti grassi ci possiamo concedere al giorno? Perché il grasso, cioè il grasso è grasso, grasso buono e grasso non buono. A maggior ragione, ecco, qua ho i formaggi, e quanto formaggio posso mangiare? Noi facciamo una grande esperienza con Dieta Social in Italia e abbiamo valutato che è bene non mangiare più di 30 grammi di lipidi a pasto e quindi scegliere gli alimenti. Scegliendo gli alimenti, i formaggi a pasta dura hanno un alto contenuto di trigliceridi, mentre i formaggi a pasta molle hanno una minore quantità di acidi grassi. Infatti stiamo leggendo che, allora, di formaggi, come dire, abbastanza stagionati, come il parmigiano e il grana, non più di 50 grammi, oppure la mozzarella, lo stracchino, non più di 100 grammi a porzione. Queste sono le dosi. Dobbiamo ridurre 30 grammi di grasso. Cioè noi dobbiamo tenere bassa la lipemia post-prandiale, bassa i trigliceridi post-prandiali, per poter ridurre il grasso. E per dimagrire bisogna eliminare il grasso viscerale, quello che sta dentro la cavità addominale. E allora cosa dobbiamo mangiare, professore? Allora, mangiare prevalentemente natura vegetale, perché i vegetali contengono una minore quantità di acidi grassi saturi, invece contengono acidi grassi insaturi che riattivano il metabolismo lipidico. Qui abbiamo, allora, sicuramente cereali integrali, legumi, verdure e olio extravergine d'oliva, perché insomma il grasso c'è, il grasso buono c'è. Sì, però se noi prendiamo 3 cucchiaini di olio extravergine d'oliva, che è molto efficace per l'acido oleico, che compete con l'acido palmitico, però noi mangiamo 15 grammi di grasso con 3 cucchiaini. E questo? Quindi, però, attenzione ai formaggi, attenzione ai saluti, andare molto sui vegetali e sul pesce. Per cui, dimentichiamo un po', non toglierli del tutto, però insomma, non mangiarli quotidianamente. E poi l'attività motorica. E infatti, non basta solamente comportarsi bene a tavola con questi alimenti che ci ha spiegato il professore, però è importante, noi qua abbiamo un orologio, un contapassi esattamente. Dobbiamo fare quanto allenamento quotidiano, professore? Dobbiamo fare un'attività intensa, però duratura. Quindi 10.000 passi al giorno. L'ossigeno, mentre noi facciamo attività aerobica, quindi con il movimento della gamba, entra dentro il nostro organismo. Per eliminare un solo grammo di grasso, occorrono 2 litri d'ossigeno. Però vorrei citare una ricerca che ho portato avanti in questo periodo. La dipolcita bianco è una dipolcita dove c'è la raccolta dei trigliceridi. E man mano, come vedete in queste immagini, diventano dei palloncini molto robusti, questo è la dipolcita bianco. Con l'attività motoria si libera un messaggio dal muscolo che si chiama irisina, che va a finire nel grasso e trasforma gli adipolciti bianchi in adipolciti beige, come vedete, quelli arancioni, quelli un pochino più scuri, marroni. Ecco, sono gli adipolciti beige. Ho fatto una sperimentazione sia con l'attività con i complessi molecolari vegetali, quindi mangiando vegetali, e sia con l'attività motoria non riusciamo a trasformare gli adipolciti bianchi in adipolciti beige, più ricchi di mitocondri e questa è una trasdifferenzazione fenotipica dell'adipolcita che ci permette di attivare notevolmente il nostro metabolismo. Insomma, oggi dobbiamo passare dal gossip alla scienza e dobbiamo ridurre la circonferenza addominale. Con decisione, mi guardi dottoressa, ho 47 anni di attività professionale. Se noi non usciamo dal gossip, dal chiacchiericcio e vediamo gli effetti che il cibo esercita sul nostro organismo, noi non possiamo programmare una salute metabolica, una salute immunitaria, soprattutto una longevità. E soprattutto in questo periodo dobbiamo cambiare il nostro stile di vita. Grazie di cuore, grazie per questi consigli. Buona giornata e a prestissimo, professore.